ciao amici di rossini tv e benvenuti nel teatro di fiò e sì anche noi delle arti di fiò non possiamo uscire ma le nostre attività non si fermano infatti tutti i nostri servizi saranno online tramite degli incontri settimanali e un piano personalizzato che verrà creato e sviluppato insieme a voi genitori tra i nostri servizi proponiamo a tempo di gioco delle attività e dei giochi motori per poter sviluppare la psicomotricità e soprattutto divertirsi in casa oppure il servizio di un gradino alla volta un servizio di aiuto compiti a distanza e di tutto specializzato anche per primi con difficoltà infine l'arte di crescere attività laboratoriali e creative per poter sviluppare manualità e creatività in questo periodo così difficile le arti di fiò non vogliono lasciarvi suoi noi siamo qui in questo piccolo teatro e grazie alla tecnologia anche se siamo lontani possiamo comunque sentirci vicini infatti proprio in questo teatro a voi genitori vi aspetto tutti i sabati mattina alle 10 e mezza qui nel teatro di fiò in diretta dalla nostra pagina facebook dove potremo parlare di tanti argomenti delle vostre difficoltà dei vostri dubbi ma anche di idee di progetti e di tanti consigli di attività da poter fare insieme al vostro bimbo il nostro numero è attivo noi siamo qua siamo qua a disposizione per voi e seguiteci nella nostra pagina facebook nella pagina instagram e soprattutto chiamateci il nostro numero è attivo attivo anche per ascoltarvi per darvi dei consigli e sappiate che in questo teatro stanno nascendo anche tante attività e tanti video che verranno messi nel web video che parleranno di come costruire giochi da poter fare dentro casa oppure delle fiade dei racconti inediti le favole di fiò che parlano di principesse di regni di principi di re di tanti personaggi che fanno dei viaggi all'interno delle emozioni beh io vi aspetto qua nel teatro di fiò il nostro numero attivo vi aspetto nella nostra pagina e ci vediamo presto ciao